puoi anche staccare le guffi sto prendendo vita ma ormai non mi indica più un cazzo né vita né niente è fisso così è la droga totale ma stai facendo cosa nel suo tempo? si, sono... devo stare vicino ai quadratini ne vedi i quadratini? più prendo le barre del bonus solo che nel frattempo mi è venuta 7 epilessie sarà mezz'ora che sono qua ci faccio ci faccio ci faccio ci faccio ci faccio ci faccio ci faccio